Questo video prosegue quello precedente in cui ti spiegavo come calcolare e capire se ti conviene riscaldare col gas metano, con la legna e il pellet oppure con la pompa di calore elettrica. Dopo diverse segnalazioni che mi avete fatto sulla possibilità di acquistare la legna all'ingrosso e quindi ridurne il costo al chilo, ho riaggiornato la classifica evidenziando la maggiore economicità delle biomasse rispetto ad altri combustibili. In questo video voglio spiegarti quali sono i vantaggi e gli svantaggi del riscaldamento legna e a pellet e molto importante ti spiego quali sono i tipi di generatori che puoi installare e quelli che oramai sono obsoleti e fuori legge. Se sei interessato ai contenuti di questo canale ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Riprendendo il ragionamento del video passato e se non l'hai visto ti consiglio di guardarlo perché ti spiego come si svolgono i conti e trovi il link in descrizione e ricalcolando il costo della legna considerando un costo pari a 20 euro al quintale abbiamo una nuova classifica dove chiaramente la legna si posiziona al primo posto con notevoli risparmi economici seguito dal pellet. Ricordo che puoi fare in autonomia i calcoli in base al costo dei singoli combustibili che trovi dalle tue parti. Prima però di acquistare la tua nuova stufa o caldaia, legna o pellet devi sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi generatori e quali sono le tipologie consentite. Partiamo dai vantaggi. Beh, il primo grande vantaggio lo abbiamo capito tutti. I costi per scaldarsi sono molto bassi. La stufa offre un caldo secco piacevole nelle giornate fredde e invernali e la sua vista unita allo scoppiettio della legna creano un'atmosfera, un ambiente molto piacevole. Il recupero energetico di scarti provenienti dai boschi è doppiamente vantaggioso in quanto da un lato riduce la dipendenza dei combustibili fossili mentre dall'altro evita l'emissione in atmosfera del metano prodotto dai processi naturali di degradazione dei residui stessi. Devi sapere che il metano contribuisce all'aumento dell'effetto serra in misura superiore di ben 20 volte a quello della CO2. La legna e più in generale le biomasse possono essere accumulate in modo facile e quindi non soffrono del problema di aleatorietà e discontinuità nella produzione di energia come avviene per le altre fonti rinnovabili di energia non programmabili come gli impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e idroelettrici. L'utilizzo della legna comporta emissioni quasi nulla di CO2 in ambiente, infatti la combustione consuma ossigeno precedentemente prodotto dalla pianta attraverso il processo di fotosintesi e libera anidride carbonica ed acqua che erano state assorbite nella fase di crescita delle piante stesse. Le uniche emissioni di CO2 possono essere imputate al consumo di combustibili di origine fossile dovute alla raccolta, al trasporto ed eventualmente alla trasformazione della legna. Quali sono gli svantaggi? Il primo tra tutti è che devi avere un minimo di spazio per immagazzinare la legna e il pellet se vuoi fare delle economie sugli acquisti. Soprattutto per l'impianti a legna devi chiaramente dedicare del tempo per pulirla, magari giornalmente, dalle ceneri prodotte e procedere con le operazioni di accensione manuale. Per il pellet invece è un po' più semplice perché ci sono meno operazioni giornaliere di pulizia e l'accensione avviene con sistemi automatici. Come per tutti i generatori termici devi fare della manutenzione obbligatoria, come avviene per un normale generatore a gas per esempio, al fine di garantire il buono stato dell'impianto, il suo curretto funzionamento e garantirne la sicurezza. E dovrai in più pulire anche il cammino che è la parte più critica. Devi sapere che una cattiva gestione dovuta a un eccessivo carico di legna o a una carenza di aria aumenta notevolmente la produzione di fuligine e delle emissioni. L'eccessivo spessore della fuligine che si crea all'interno dei condotti fumari, dovuto anche ad una scarsa pulizia, è uno dei più frequenti motivi di incendio. La fuligine infatti è un ottimo combustibile e grazie al flusso di aria può velocemente incendiarsi facendo fuoriuscire fiamme e faville. Il calore prodotto, che può arrivare anche a 800 o 1000 gradi, può causare crepe nelle pareti della canna e nei muri confinanti. Infine, le polveri che si creano quando la linea brucia male contengono sostanze come gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine che le rendono più tossiche e pericolose per la salute. Di conseguenza l'uso sicuro per sé per l'ambiente della biomassa per il riscaldamento implica l'utilizzo di un apparecchio idoneo, correttamente installato, alimentato con biomassa di qualità e sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia. Inoltre, non tutte le stufe o le caldaie a legna o pellet possono essere installate o fatte funzionare. Diverse regioni italiane hanno regolamenti specifici per gli impianti termici a biomassa. Apro una parentesi. Secondo il decreto ministeriale del 7 novembre 2017, il numero 186, i generatori a biomassa vengono classificati in 5 classi, ognuna identificata con una stella. Ci sono però in commercio generatori che hanno caratteristiche superiori a 5 stelle, naturalmente. Per ogni stella si identifica un rendimento del generatore ed un eventuale limite specifico di emissione in termini di polveri sottili, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Maggiori sono il numero delle stelle, maggiore il rendimento e minori i valori di emissione. Preciso che tutte le regioni dotate di regolamenti sull'emissione, in funzione del superamento dei limiti di qualità dell'aria per più giorni consecutivi, limitano l'utilizzo dei generatori, siano essi stufe o caldaie a biomassa, che hanno un numero di stelle ben definito, soprattutto se hai anche un impianto alternativo alla legna. È necessario che ti informi direttamente presso il tuo comune, anche perché questo tipo di regolamenti potrebbe subire modifiche nel tempo e comunque contiene ulteriori informazioni rispetto a quelle che ti espongo in questo video. Vediamo insieme alcune regioni che hanno regolato questi impianti e se ne ho dimenticata qualcuna fatemi sapere nei commenti. Mi riferisco ad impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kW, anche se esistono regolamenti per potenze superiori. Partiamo col dire che in Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Campania per la nuova installazione o la sostituzione è necessario installare un generatore con almeno 4 stelle. Se usi il pellet è obbligatorio che sia di classe A1 e certificato secondo la UniEN ISO 17225 parte 2 e quindi che risponde a specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed energetiche e per citarne qualcuno il contenuto di ceneri residuo deve essere inferiore allo 0,7% ed il potere calorifico deve essere uguale o maggiore a 4,6 kWh per kg. In Lombardia l'ultimo regolamento è datato 2021 ed è valido solo per i singoli generatori con potenza focolare superiore ai 5 kW o comunque nel caso in cui la somma dei generatori installati nella stessa abitazione è superiore ai 5 kW. E quindi per la nuova installazione e la sostituzione di un impianto biomassa è necessario installare un generatore con almeno 4 stelle e dal 15 ottobre 2024 deve anche avere una emissione di polveri sottili minore o uguale a 20 mg per nolmar metro cubo. E se risiedi in un comune sotto i 300 metri sul livello del mare le polveri sottili minore uguale a 15 mg e il carbonio organico totale deve essere minore o uguale a 35 mg normal metro cubo. Per la sostituzione di un impianto alimentato GPL, gas naturale, gasolio, olio combustibile è necessario installare un generatore con almeno 5 stelle e se la potenza è inferiore o uguale a 15 kW le polveri sottili devono essere minore o uguale a 15 mg per normal metro cubo. Se la potenza è superiore a 15 kW le polveri sottili devono essere minore o uguale a 5 mg, il carbonio totale deve essere minore o uguale a 2 mg al normal metro cubo, l'impianto deve avere un accumulo termico minimo calcolato considerando 20 litri per kWh di potenza nominale del generatore con lo scopo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, deve avere un sistema di alimentazione automatica e deve avere un sistema di filtrazione. Se usi il pellet è obbligatorio che sia in classe A1, se usi il cippato è obbligatorio che sia classificato dal fabbricante secondo la UNI EN ISO 17225 parte 4. Aggiungo che è possibile accedere alle detrazioni fiscali per la sostituzione del generatore termico esistente con 1 biomassa ma è necessario rispettare i regolamenti locali, comunali, regionali e nazionali, in caso contrario le detrazioni decadono. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perderti i prossimi video. Un caro saluto.